Scusate, mi dite se sono state rispettate le norme dentro anti-Covid? Credo proprio di no. Perché? Perché eravamo proprio appiccicati. Momenti di tensione, sono intervenute anche le forze dell'ordine di fronte ad un istituto scolastico aretino. C'era la convocazione dei candidati per alcuni posti da Bidello, quindi per il personale ATA. Questo è quello che è successo. Succede all'istituto comprensivo Francesco Severi di Arezzo. I candidati per i posti di collaboratore scolastico necessari per le norme anti-Covid sono stati convocati con un'e-mail. A differenza delle altre volte che bisogna rispondere o con la certificata o con il telefono o con le mail, c'era scritto di essere presenti qui alle 9. Più di mille, ci dicono i candidati, alcune centinaia, conferma la scuola per sei posti. Convocazione presso il Teatro Mecenate, che ha una capienza di circa 200 posti. Pensavamo rispondessero in pochi, afferma la dirigente scolastica. Ci hanno messo tutti dentro una sala magna. Io sono uscito fuori perché 1500 persone in un ambiente così ristretto sotto Covid non mi sta bene. Le convocazioni contenevano la possibilità di inviare una delega, ma la maggioranza ha preferito presentarsi a testimonianza del fatto che un posto di lavoro in Italia è quanto mai oggi ambito, seppur precario. Lei da dove arriva? Da Napoli, però mi sono appoggiato da un amico. Queste le immagini che ci hanno girato e che raccontano di come si sono svolte le operazioni di ingresso e registrazione dei partecipanti. C'era un assembramento? No, no. No, ma malissimo, sinceramente. Non è una cosa molto a norma. Sono state alertate anche le forze dell'ordine arrivate sul posto a verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Ci ha pensato nell'immediato una pattuglia della Polizia Municipale, tutto rispettato, ci dicono. La gente, di certo non ad un metro di distanza, indossa comunque le mascherine. La rabbia, però, rimane tanta. Hanno chiamato i primi dieci, poi hanno detto che gli altri vedranno la graduatoria sul sito, giusto per... Ci hanno fatto venire qui per perdere tempo. Grazie.